Candidati vincenti cercasi. È una corsa contro il tempo. Dal 10 maggio occorrerà depositare le liste con tanto di firme per quelle civiche e la ricerca dei candidati si sta rivelando più difficile del previsto. Le liste di appoggio a Dino Bramanti potrebbero ridursi da 11 a 8. La conferenza stampa di presentazione, fissata per sabato mattina, è stata rinviata da Bramanti ufficialmente per motivi organizzativi, ma in realtà occorre ancora chiudere le liste dei candidati. Anche a sinistra, momenti febbrivi, PD, articolo 1 e altri pezzi del centro-sinistra cercano di chiudere con 5 liste, ma vogliono puntare su candidati credibili e forti. Intanto a tenere banco è la soppopera Bramanti De Luca. L'uscita di Cateno De Luca sulle assunzioni al Neurolesi, subito impallinata da Dino Bramanti e dal direttore del Neurolesi Aliquo, che hanno preannunciato querela, non è passata inosservata. A rompere il silenzio che ha caratterizzato le ultime settimane è Pietro Navarra, deputato nazionale del PD, ormai riferimento del centro-sinistra. Fatto di inaudita gravità, dice, ascoltiamolo. Sono fatti veramente gravissimi, non mi aspettavo di vedere di essere di fronte a situazioni così gravi e che in qualche modo forse stanno tutte insieme. Qualche settimane fa un annuncio di una conferenza stampa in Pompamagna, l'annuncio di questa conferenza stampa, come lo stesso De Luca afferma, la commissione, la riunione di commissione bilancio a Palermo e poi la conferenza stampa. A tutti ha stupito il contenuto della conferenza stampa, a tutti anche a voi giornalisti, ho letto quello che avevate scritto, la montagna che ha partorito un topolino, nessuno si capacitava delle ragioni di quel patto. Ma cosa vuol dire questo patto? Cosa c'è dietro questo patto? E poi le dichiarazioni sconcertanti di De Luca dell'altro giorno che lega il patto a uno scambio, o sembrerebbe che così sia, secondo quello che dice De Luca, che uno scambio che in qualche modo camuffa un vero e proprio reato. E poi ancora questa mattina leggo che bisogna calare il sipario, ma calare il sipario da che cosa? Qua bisogna fare luce su una vicenda oscura, su una vicenda inquietante.